Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo 100+. Infatti oggi siamo qui con un 109-1 preso col Cicom, un'arma a raffica, una mitraglietta come sapete a raffica di tre colpi. Ho deciso di usarla oggi perché un mio iscritto mi aveva scritto un commento su un video chiedendomi come io utilizzassi il Cicom perché anche lui voleva farsi le mitragliette diamanti, per chi non lo sapesse le mitragliette diamanti si fanno prendendo oppure anche tutte le altre armi diamanti si fanno prendendo la mimetica oro su tutte le armi della stessa categoria ovvero tutte le mitragliette oro, sbloccherete il diamante per le mitragliette e così via per le altre categorie d'armi. Allora io gli ho risposto in quel commento, gli ho detto che utilizzavo o con silenziatore e caricatore rapido o con silenziatore e selettore di fuoco, come infatti sto utilizzando in questo gameplay, utilizzo il selettore di fuoco e il silenziatore. Vorrei sottolineare che è la prima partita del giorno quindi magari all'inizio del video vedrete che c'è una mira un po' che non riesco un po' a mirare i nemici perché essendo la prima partita del giorno mi devo ancora abituare un po' con la sensibilità così ma ho avuto fortuna e ho fatto questo 100+. È un'arma un po' difficile da usare devo dire perché nonostante ci abbia, cioè può piacere o non piacere perché essendo a raffica di 3 ovviamente come tutte le armi non automatiche su Call of Duty vengono trascurate e anche questa è un po' trascurata nonostante sia molto forte a mio parere e come vi ho già detto in un mio precedente video basta abituarsi a utilizzare un'arma e poi si possono utilizzare tutte le armi che uno vuole addirittura le pistole sono molto forti se uno ci fa l'abitudine comunque è un po' complessa come arma perché se voi non la utilizzate con selettore di fuoco può essere intanto qua guardate che sfortuna poteva essere di più l'unica morte che ho fatto ha un assist allo sciamo e l'ho fatto vabbè è un'arma molto forte ma è complessa come vi stavo dicendo perché si può utilizzare sia con selettore di fuoco che senza molto facilmente ovvero che senza selettore di fuoco nonostante sia raffica di 3 colpi se voi sparate premete velocemente il tasto per sparare diventerà un'arma più o meno automatica e a me piace anche utilizzare la raffica di 3 colpi soprattutto perché è un po' più precisa anche se anche col selettore di fuoco potete benissimo scegliere se sparare a raffica o meno comunque io l'ho utilizzato col selettore di fuoco in questo gameplay appunto perché essendo la mia prima partita del giorno non avevo la mira e con un selettore di fuoco è più facile prendere i nemici comunque senza selettore bisogna un po' essere più precisi per uccidere i nemici comunque stavo giocando su una mappa dove ho fatto in questi giorni ho fatto dei bellissimi risultati e la mappa è carrier secondo me è molto buona perché essendo una mappa molto aperta le ricompense fanno veramente tante uccisioni infatti come vedrete nell'ultima parte farò tante uccisioni con le ricompense anche in questo video e appunto io lo consiglio per fare un 100 più anche se è un po' difficile da giocare cioè se voi prendete le ricompense farete di sicuro un buon risultato ma prenderle è un po' più difficile rispetto alle altre mappe perché non è una mappa strutturata su tre vie come la maggior parte delle mappe cioè tre vie ci sono ma quella centrale è molto più grande delle vie laterali soprattutto è una mappa molto aperta non è una mappa secondo me consigliabile per utilizzare delle mitraglie della corpo a corpo comunque è meglio utilizzarsi un cecchino se uno si vuole divertire o un fucile d'assalto se uno vuole proporre bei risultati perché come vedete è tutta aperta a parte una casetta sulla via a destra se si guarda dalla bandiera A e una stanza un corridoio a sinistra dove è una delle uniche zone chiuse di questa mappa appunto tutto il resto è completamente esposta ai cecchini infatti come avete visto prima sono morto uno dallo sciame con un cecchino non si può morire in altro modo a meno che non trovate della gente che gira col fucile a pompa per rompere le scatole pure nelle mappe grandi ma queste sono un'altra cosa e giocavo in uccisione confermata una modalità che a me non piace molto perché ha i suoi pro e i suoi contro è bella da un certo punto di vista perché se voi riuscite soprattutto nelle mappe piccole è bella perché se voi riuscite a uccidere a prendere tante volte le piastrine riuscirete a prendere molto velocemente le vostre serie uccisioni e quindi comunque proporre bei risultati e però è brutta a mio parere anche perché gli spawn sono molto più casuali rispetto a una modalità come magari postazione o dominio infatti vi capiterà spesso se giocate in questa modalità che vi spawnino addirittura più davanti di quanto ve ne spawnino se giocate in dominio che già lì c'è da lamentarsi sugli spawn in uccisione confermata non si possono vedere addirittura infatti come vedete su questa mappa uno spawn è qua dove sto andando adesso uno e poi ce n'è uno a destra alla mia destra ora e uno sulla bandiera A se voi giocate in dominio e in uccisione confermata anche e poi è anche abbastanza brutta secondo me perché anche in questa partita succederà una cosa un po' sgradevole ovvero che gli nemici cioè gli alleati se voi dovete giocare in gruppo a mio parere non ci sono confermata ora io non avevo amici da invitare e quindi ho preferito giocare solamente con virus infatti eravamo in squadre multiple e l'unico alleato che non era con noi ha rovinato più o meno la partita cioè l'ha fatto finire troppo in fretta mancavano ancora due minuti e mancava poco all'allstar e si è messo a confermare tutto ovvero io non dico che non bisogna confermare su questa modalità anzi è una modalità fatta apposta per confermare le piastrelle però io vi chiedo semplicemente se voi magari vi trovate un alleato che sta facendo un buon risultato e vedete che magari anche in gruppo con una persona e comunque anche virus ha anche detto in inglese perché virus è di nazionalità inglese ha un all'alleato di non confermare lui ha confermato lo stesso e ha rovinato più o meno la mia partita cioè è uscito un buon risultato è un 109-1 un buonissimo risultato a parer mio però poteva essere migliore come vedete io sono quello che conferma di più in questa partita ma perché? perché virus non conferma perché vede che sto facendo un buon risultato allora preferisce farmi continuare la mia score per poter prendere più serie di uccisioni possibili però il mio alleato non è molto gentile e continua comunque a confermare e dà fastidio ecco ma intanto sfortuna assurda non riesco a fare tante uccisioni con l'ostra nonostante la mappa sia tanto aperta e poi oggi guardate ragazzi Call of Duty era una cosa ingiocabile ho fatto un sacco di fail 100 più ho fatto un 99 kill ma cioè faccio delle partite dove faccio 70 uccisioni in 5 minuti e gli altri 5 faccio pochissime uccisioni 30-20 è una cosa incredibile perché la gente sta continuando a quittare io non ne posso più cioè non che non ho più voglia di giocare io mi diverto a giocare però mi piacerebbe che la gente quittasse di meno non sono l'unico a dirlo su questo gioco la gente quitta un po' troppo perché le serie uccisioni è vero sono devastanti su questo gioco ma su MU3 c'erano anche lì delle serie uccisioni forti l'unico motivo per cui uno può quittare è perché lo shaman magari non si può abbattere allora da un po' fastidio ma ci si campera ci si campera dentro le case si aspetta che lo shaman finisca cioè non si può evitare in altro modo o si quitta o si campera io vi chiedo di camperare e cioè no ovviamente quando c'è lo shaman non preintendetemi e comunque il gameplay è finito ricordate di mettere mi piace di commentare come vedete mi avete chiesto un consiglio sulla Cicom io vi ho portato un gameplay con la Cicom e e ditemi appunto che commentari fare io non ho idee su che commentari fare e ciao a tutti e parametri dell'obiettivo raggiunti Grazie.